Ciao a tutti! Salve! Siamo tutti qui... telecamera puntata su di me! Siamo tutti qui riuniti oggi, fatevi sentire pubblico! Bene, bene, ma non è un concerto. Siamo qui oggi per celebrare un matrimonio. Il matrimonio dei nostri più amati, Naka e Pelata! Fate... aspetta... sposo? Sposo! Salve, salve, buongiorno! Sono Naka. Io sono lo sposo. Non devi fare queste cose, non sei mica allo stadio. Ok. Sono qua, sono qua. Ma riesci a stare in piedi? Eh, senti la tensione! Sei mai sposato? Ma secondo te sono divorziato e mi sposo in chiesa! Bene, fate entrare la sposa! Taratata! Taratata! Sposa! Taratata! 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 Che caldo! Vai via, ombrello! Che non piove dentro in chiesa! Non si aprono gli ombrelli all'interno! Avlo sfiga per sette anni! Sentirati su! Bene, bene. Bene. Allora, siamo qui riuniti oggi per celebrare e decapitare... Ah no, aspetta, non è decapitare. È celebrare le nozze da Naka e Pelata e per averli sempre qui con noi. Vabbè, senti! Tu Naka, vuoi prendere in tua sposa Pelata? Secondo te? Non lo so. Mizz, sospetto. Mizz, sospetto. Tan 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 tan! Tu! Ok, vuoi prendere in tua sposa Pelata? Secondo te? Senti, Dio di sì o no! Ok, sì. Pelata, vuoi prendere in tua sposa Naka? È svenuto. No, è svenuto! Ah! È svenuto! Raspirazione bocca a bocca! Vi preghiamo di attendere un secondo. Restate in linea con noi. Il matrimonio di Naka e Pelata si festeggerà presto. Mizz, cosa sei un complessone? Senti! Sto cercando di rianimarlo. Bene, siamo tornati qua. Lo sposo sta bene. Insomma, tu Pelata, vuoi prendere in tuo sposo Naka? Sì. Non faccio storie come lui. Adesso cosa devo fare? Ma come? Sei un plete e non sai cosa fare. Io non faccio il prete. Ok. Ok, bene! Bene! Ma sembra che la stai facendo volare. Senti, non è... Senti, non è colpa mia se è alta 100 cm più o meno di me. Ok, bene! Adesso il matrimonio è stato fatto. Possiamo anche andare a casa. E io ho la... Com'è che si chiama il programma? Quello da guardare? Di... 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 Come si chiama? Di... Di giovedì... Come si chiama il programma là? X-Factor? Ah, sì! Giusto! X-X-X-X... X-Factor! X-Cactor! X-Factor! Vabbè quello là insomma Adesso voi due siete sposati Potete fare la bella vita Felici e contenti per sempre Ciao buonanotte Io vado a guardarmi X Factor Che vuole farmi un balletto Addio Ma che lazza di plete è Vabbè intanto noi due siamo sposati E adesso torniamo a casa Perché qua dentro fa un caldo becco Sì infatti Ciao